Non ci sono più serrature. Ho già visto questo volante da qualche parte. Non c'è più niente qui. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Professor Walden, cosa fa? Sto cercando Friedman. Dubito che lo troverà sotto quelle carte. Quando l'ho visto era nel... Sapete dov'è? Dove l'avete visto? Era in biblioteca. Ma è passato già un po'. Aspetti, pensa che lui sappia cosa succede. Posso venire? È possibile. No. È il vostro amico? Ho appena scoperto un sotterraneo. Vado a cercarlo là. Ho visto che ci si arriva dall'aula magna, ma non ho la chiave. Ce l'ha lei, può darmela? Non dovrei, ma a questo punto. Prendete. Grazie. Ehi, non vada via. Grazie a tutti. C'è ancora qualcosa da fare qui. Questa serratura è uno scherzo. C'è ancora qualcosa da fare qui. Non c'è più niente qui. Non c'è più niente qui. Strano. Anche in queste vecchie foto, Herbert, è esattamente come oggi. È assurdo. So che c'è ancora qualcosa. C'è troppa calma. Non è normale. Non preoccuparti. Non hai niente da temere con me. Cos'è? Prova. Uno, due. Uno, due, tre. Prova. Uno, due. Uno, due, tre. Prova microfono. Non c'è più niente da trovare qui. Da qualche parte c'è una serratura da forzare. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da trovare qui. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Qui ci sono altre serrature. Mal diavolo! Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente qui. Non c'è più niente da prendere qui. I rumori vengono da sotto. Viene da laggiù. I rumori vengono da sotto. Viene da laggiù. Viene da laggiù. Perpetua. Oh mio Dio. Perpetua, Perpetua. Vieni da laggiù. Prendi. Ma il diavolo. Questa ti cambierà. Meglio di questo. Prendi questo. Prendi questo. Minda. Non c'è più niente qui. Perpetua. No, no, no. Non può essere! Il montacarichi è crollato! Siamo bloccati!